Moretti. Certo, certo. Moretti e Borgonzoni. Allora, nel nostro paese, negli ultimi dieci anni, la sanità ha subito tagli dalla destra alla sinistra pari a 36 miliardi di euro. Adesso io che sono in Europa chiedo a tutti i miei colleghi come facciamo, come qualcuno come la Lega amica di Orban può dire no a 37 miliardi che l'Europa mette a disposizione dell'Italia. Però a questo non c'entra nulla, scusami. Con un risparmio di 7 miliardi in dieci anni per riformare, no, fammi finire, per riformare il sistema sanitario nazionale, per dare più dispositivi medici agli ospedali, per dare più sovra di intanto agli infermieri e ai medici, che sono tra i meno pagati d'Europa. Borgonzoni, questo c'entra e come? Non posso dire l'Italia che ha fatto la sinistra, perché è la sinistra che ha deciso di fare i tagli, di farne tantissimi, non c'entra niente il messo in questa discussione. Il fatto dei tamponi, sì, c'è stato un problema. C'entra e come? Perché sono risolvoli in una volta, in maniera vergognosa, dite di no. Da un governo che, come ho già detto l'altra volta che ero venuto in trasmissione, il 31 gennaio, ci ha detto c'è un'emergenza e doveva mettere in campo una serie di linee, perché il privato arrivasse, dove il pubblico non riusciva a arrivare. Noi abbiamo avuto uno tsunami, un'onda grandissima. Non saremmo qua a parlare del privato se il pubblico riusciva a fare tutti i tamponi, i serologici. Mi scusi Borgonzoni, mi fanno dopo dei selli brutti. Ci sono le regioni che hanno detto, facciamo tutto con il pubblico, come le media romagna sul serologico, poi ho dovuto aprire i privati, perché non ce la facevamo, ma così siamo rimasti indietro e le linee non sono state date in tempo. Pubblicità, torniamo subito però. Scusatemi, devo andare proprio. E' questo che va riformato il sistema sanitario.